Attribuire a Palazzo Moncada il ruolo di epicentro di un sistema geografico-culturale regionale finalizzato alla valorizzazione di beni e monumenti siciliani posti sotto il comune denominatore feudale con lo scopo di supportare la rifondazione complessiva dell'immagine di Palazzo Moncada attribuendogli il ruolo di attrattore di flussi culturali. Tesi ad attivare percorsi di valorizzazione e divulgazione del patrimonio complessivo della città e del territorio nisseno. Questo è l'obiettivo del progetto Caltanissetta Città Moncadiana, il Palazzo Ducale, il suo museo, percorsi di conoscenze e fruizioni così come riportato nella determinazione pubblicata a fine dicembre all'alboprettorio del comune nisseno e che fa riferimento all'impegno delle somme. Il progetto che rientra nell'area tematica della cultura era stato votato dai cittadini ottenendo 164 preferenze all'interno del bilancio partecipativo 2018 ed era stato presentato dalla Proloco e dall'Associazione Alchimia. I lavori in realtà sono già iniziati, finalmente con la determina da parte dell'amministrazione comunale siamo pronti per mettere in pratica quello che già si è iniziato a studiare. Parliamo di un progetto che finalmente darà un senso alla storia di Moncada a Caltanissetta perché si sta proprio studiando la loro storia, la loro presenza qui nel territorio nisseno con lo studio soprattutto dei freggi e dei menzoloni di Palazzo Moncada che tra l'altro verranno musealizzati e digitalizzati, mi spiego meglio, musealizzati nel senso che verrà realizzata una stanza ad hoc sulla famiglia Moncada dove verranno posizionati questi menzoloni e verranno realizzati dei pannelli multimediali con la storia della famiglia. A questo la digitalizzazione perché verrà realizzato un portale, proprio un sito internet oltre a delle pagine social di accompagnamento che servirà poi anche da rete con le altre città moncadiane della Sicilia quindi un progetto che in realtà inizia qui da Caltanissetta che anche questa volta sarà capovila di questa iniziativa sui Moncada che si aprirà però a tutta quanta la regione su tutte le città appunto moncadiane.